buongiorno a tutti i ragazzi allora è bravo lui che se non offende non sa esprimersi ma ha indossato la sua maschera migliore fino adesso bravo bravissimo un grosso applauso per te ma ops ti è caduta la maschera ti sei rivelato per quello che realmente la tua personalità e allora visto che considerato che io sono scema più scema più scema più scema più scema e ancora altre volte perché tu lo dici la bellezza di dieci volte vediamo stasera alle ore 22 nella mia live chi è la scema più scema più scema più scema più scema e ti mando un ciaone stellina perché ancora deve nascere quello che mi mette piedi in testo e quello che mi fa passare da scema più scema più scema più scema più scema ragazzi io vi aspetto tutti stasera nella mia live vogliamo fare il dissing e famolo sto dissing perché la claudietta non ha paura nemmeno della morte e nel frattempo vi faccio vedere che da noi c'è una nebbia spaventosa a voi non vi interesseranno ve la faccio vedere lo stesso quindi vi aspetto stasera alle ore 22 nella super dissing live ciao